Una partita quasi perfetta, ci siamo tolti una soddisfazione contro una squadra che non attraversava un ottimo momento, però è pur sempre il Milan, c'è sempre dei campioni, quindi è da valorizzare oggi la grande prestazione della Sampdoria. Quest'anno mancava una soddisfazione contro una grande squadra appunto. Però abbiamo fatto delle ottime partite, mi ricordo all'andata Inter-Roma, a ritorno sempre con l'Inter perdendo i meriti attamente, a Torino con la Juve, quindi diciamo che con le grandi noi ci facciamo sempre valere. Abbiamo anche tirato un po' di fiato per i punti, quindi in posizione della classifica adesso comincia a prendere un altro tipo di aspetto e quindi guardiamo il futuro con un po' più di serenità. Un po' di sofferenza nel finale, cosa è successo? Sì, è inevitabile, anche perché loro nel momento in cui hanno dimezzato il distacco ci hanno provato in tutti i modi, però siamo stati lucidi, potevamo evitare magari di prendere il primo gol che ci avrebbe magari permesso di arrivare alla fine senza problemi. Però è inevitabile, poi il Milan in un modo o nell'altro la giocata la trova, Pato ha fatto un grandissimo gol, quindi fortunatamente si sono fermati lì. Mercoledì? Mercoledì è un'altra partitaccia, però è pur sempre la semifinale di una competizione a quale noi teniamo. Potrebbe essere anche il viatico per trovare la Coppa UEFA l'anno prossimo andando anche in finale, e quindi bisogna valutare anche questo vantaggio, oltre che magari, che sicuramente il vantaggio è giocare magari nella finale di una competizione importante. Quindi dobbiamo far bene e speriamo che nell'arco dei 180 minuti di riuscire a portare via una qualificazione. Comunque penso che la Sampdoria in questo momento sta dando tutto e è capace di tutto, oggi l'ha dimostrato. Sono contento, ho giocato altri minuti contro una squadra così importante, ma soprattutto sono contento per i tre punti che siamo riusciti a ottenere contro il Milan, che è una fortissima squadra. Un premio importante e ne ritirerai un altro in diretta tv? Eh sì, ma peccato, avrei voluto ritirare quello dalla vittoria, il vareggio, non il mio giocatore. Cosa ti ha detto il mister quando sei entrato in campo? No, ha detto, dai tutto, aiuta la squadra, così, tieni palla. E ci sei riuscito? Eh sì, dai, sono contento di come sono entrato, secondo me sono entrato abbastanza bene, ma soprattutto ripeto che la squadra, ho aiutato la squadra e sono felice per quello. Dopo l'eliminazione della UEFA ci voleva una vittoria così per risollevare l'umore, anche la classifica? Beh, questa vittoria è importantissima per noi, sia per riscattarci la partita che abbiamo fatto giovedì e abbiamo perso malamente, e sia per la classifica che per il morale che ci ha fatto fare, un salto di classifica non indifferente. Avete giocato forse la miglior partita della stagione, sei d'accordo? Può essere, eravamo abbastanza riposati oggi perché hanno già avuto tanti giocatori che poi giovedì non sono stati impiegati. Abbiamo corso, abbiamo messo l'impegno giusto e quando le cose girano per il verso giusto vengono anche risultati come questo di oggi che è fondamentale. Ora vi attende un'altra partitissima? Sì, adesso mercoledì andiamo e cerchiamo di passare il turno di Coppa Italia perché quella per la Coppa UEFA è fondamentale. Ci proviamo!